Prima di un grande inizio deve esserci caos. Com'è? Buono o insomma? Consigli per l'estate. Alcune cose piuttosto fresche consigliate con queste temperature. E' strana questa casa. Io da quando sono qui mi sembra che non succeda niente. Lei deve imparare ad ascoltarsi. Solo se impara ad ascoltarsi si farà sentire. Quindi non ce l'hai un lavoro? Non è ancora deciso quello che fare da grande. Tu invece lo sai sicuramente? No, ma io ho 11 anni. Mi stai seguendo? Ma veramente è il contrario. Fa differenza? Fabrizio. Nina, non ce la faccio. A fare che? Essere normale come gli altri, avere un lavoro, un fidanzato. Che c'è di male essere come gli altri? Ha paura. Ma tu sarai sempre speciale. maiunto vedete a voi. Ho davvero un po' побcario, che cosa non ci fa? Ho davvero un po' ala immaginito. constitutes unées val board幹嘛? Ho ROD con alcune cose pratiche per l'area. HoISTtier cosa è. Assegna, non ci variano qualche pausa? Non ci vedete? Grazie a tutti